L'interpreto Razio, che sono un personaggio di sicurezza, come un personaggio che non esiste. Quindi invece mi è la resistenza, ho scriso una storia magnifica. E soprattutto, sono partita dall'incontro con Valeria, perché al di là di quello che vuol dire, veramente c'è stata una coppa di empatia trovata. Ho fatto un film anche molto più di me, nonostante il produttore Arricano Scamarchi, com'è andato? È andato bene, è andato bene tutto, dalla scrittura, le altre sceneggiatrici sono donne, insomma c'era veramente una grande partecipazione femminile e questo faceva del bene naturalmente a tutto il film secondo me, perché ha una sensibilità particolare e a persone. Lo accompagnerai a cani in film? Eh beh certo, volentieri lo accompagnerai. Cosa vi aspettate? Cosa ti aspetta? Ma secondo me questo è un film che ha assolutamente un percorso anche fuori dall'Italia. Questo non perché non sia un film italiano, perché è un film italiano, però è assolutamente credo che lo sguardo di Valerio è uno sguardo di cinema diverso, quindi Cannes le porterà bene. Grazie.